Ha fatto bene lo spazio nel mezzo, costa curta, ma la palla è scivolata via. Non è partito a tempo Inzaghi, lui è brevissimo a partire. Va incontro Inzaghi, lancia per lui, Inzaghi. Civo viene segnalato fuori gioco, abbastanza discutibile. Ma in effetti è abbastanza incredibile questa segnalazione. Errore grossolano, Inzaghi sta interpretando benissimo la gara, deve partire in verticale, deve cercare la profondità, deve aiutare la propria squadra ad allungare l'Ajax e lo sta facendo. In questo caso l'aveva fatto benissimo. Grazie.